Il recente risultato elettorale di politiche regionali rimette in discussione le candidature a sindaco per le amministrative del 2019. Il presidente di Royal Autobus Massimiliano Passalacqua annuncia ufficialmente di aver saldato le spettanze dei lavoratori licenziati. Continua a far discutere ed alimentare polemiche il censimento della pubblicità nei negozi affidato dal pincio ad una società esterna. Spiaggia invasa dai rifiuti a campo di mare, compresi i famosi dischetti provenienti dal depuratore della Valle del Sele, presentata una denuncia. Appuntamento settimanale col sonetto di Pasquino che oggi paragona le sedute del Consiglio Comunale a uno spettacolo cinematografico. Battuta d'arresto per l'Enel SNC sconfitta questo pomeriggio per 8 a 7 al Foro Italico dal Vist Nova guidato dall'ex Alessandro Calcaterra. Buonasera e bentrovati. Nemmeno il tempo di metabolizzare il risultato elettorale del 4 marzo che a livello locale si guarda già oltre. Sembra paradossale ma sono già iniziate le grandi manovre per le elezioni amministrative in programma nella primavera del prossimo anno che porteranno alla scelta del Sindaco e del nuovo Consiglio Comunale. Poche le certezze, tante a quanto sembra le divergenze nei diversi schieramenti politici. Il nostro servizio. Tanti, forse troppi per una sola poltrona, quella di Sindaco di Civitavecchia. Il risultato elettorale dello scorso 4 marzo ha completamente scompaginato le fila nei diversi schieramenti politici dove alla vigilia del voto per le politiche e le regionali il discorso riguardante le candidature per le amministrative della primavera 2019 sembra ormai ben avviato. Il primo e al momento più importante ribaltone è arrivato direttamente dal Sindaco uscente. Visto il risultato di 5 Stelle anche a livello locale, Cozzolino, che molti davano intenzionato a non ricandidarsi, ha invece confessato ai nostri microfoni che ci sta facendo più di un pensierino. Negli schieramenti tradizionali si è invece passati da una situazione che appariva consolidata ad una fase di assoluta incertezza. Il centro-sinistra, non secondo a nessuno, in fatto di divisioni, fa ovviamente la parte del leone. I rumors pre-4 marzo davano marco pien di bene in pole position per la massima carica cittadina come rappresentante dello schieramento. A quanto pare, però, già all'indomani dello scrutinio, il numero dei papabili candidati era cresciuto esponenzialmente, sia dentro che fuori al PD. Dentro una parte dei Democrat è forte la tentazione di candidare un personaggio della cosiddetta società civile o magari un esponente del partito che negli ultimi anni abbia avuto minore visibilità. Poi c'è Enrico Luciani. Alle recenti elezioni regionali il partito azienda della CPC ha ottenuto l'11%, risultato analogo a quello registrato nel 2013, a testimonianza di un elettorato consolidato. Il presidente dei portuali punta chiaramente alla poltrona di Palazzo del Pincio, avvicinata durante l'ultimo governo di Dei, nel quale ha svolto il ruolo di vicesindaco, nella consapevolezza di trovarsi di fronte ad una delle ultime possibilità di un incarico di prestigio. Le aspettative di Luciani sembrano mal conciliarsi con quelle dei Democrat e quindi il centro-sinistra difficilmente saprà presentarsi unito, considerando che anche Vittorio Petrelli sembrerebbe intenzionato a ripetere l'esperienza già condotta nel 2014, quando si presentò da solo come candidato sindaco. Infine il centro-destra. Anche lì, prima del 4 marzo, tutto sembrava consolidato con Massimiliano Grasso, legittimamente considerato il candidato sindaco naturale. Vuoi come risarcimento per la beffa delle precedenti amministrative, sia per il ruolo di opposizione svolto con particolare impegno nel corso dell'attuale consigliatura, nella quale ha praticamente da solo rappresentato la voce del centro-destra. Ma il risultato elettorale potrebbe rompere gli equilibri fin qui raggiunti e, a quanto pare, anche ratificati. Fratelli d'Italia, l'indomani del voto, ha rivendicato un suo ruolo in vista delle prossime comunali. Sul fronte Lega, poi, è notorio che Alessandra Riccetti punti alla candidatura a sindaco. L'ex presidente del Consiglio Comunale è particolarmente stuzzicata dall'idea di potersi confrontare elettoralmente con l'ex compagno di partito, Cozzolino. Ma anche in Forza Italia si manifesta agitazione. Sandro De Paulis, entrato recentemente tra le fila degli azzurri, ha da tempo iniziato la sua marcia di avvicinamento alla candidatura a sindaco. Insomma, ci attendono mesi di vera passione politica e di possibili sorprese. Un dato appare comunque certo. I candidati a sindaco alle amministrative del prossimo anno non saranno pochi. E Royal Bus ha onorato tutti gli impegni economici con i dipendenti licenziati dopo l'escursione dei servizi di navetta all'interno del porto, voluta da Port Mobility. Lo specifica l'azienda locale di trasporto, sostenendo che ieri sono stati eseguiti bonifici bancari relativi agli stipendi per il periodo novembre 2017-gennaio 2018. Alle tredicesimi agli anticipi del trattamento di fine rapporto richiesti e che contestualmente è stata revocata l'accessione dei crediti vantati nei confronti di Port Mobility a favore degli stessi lavoratori. Il presidente di Royal Bus, Massimiliano Passalacqua, spiega che adesso la sua azienda avrà le mani più libere nella battaglia contro la decisione di escluderla. Suo giudizio è assunta senza una logica da chi ha voluto penalizzare l'imprenditoria Civita Vecchiesa a favore di altre. Secondo Passalacqua, il pagamento di tutte le spettanze sottolinea infatti, e una volta di più, come sia stata del tutto ingiustificata la revoca del servizio da parte di Port Mobility. In ultimo, il presidente di Royal Bus ricorda come attualmente sono sei gli ex dipendenti ai quali, malgrado le rassicurazioni e gli accordi, non è stata trovata alcuna ricollocazione. Dopo le proteste e le richieste di chiarimento della Conf Commercio, esplode il problema della tassa ai commercianti sulla pubblicità. Mentre Palazzo del Pincio sottolinea che non si tratta di nessuna nuova imposizione, ma della corretta applicazione di un regolamento già esistente, Sportello Consumatori espone alcune situazioni ai limiti del ridicolo, parlando di faga impositiva del comune e il servizio. Nessuna nuova tassa è stata applicata o entrata in vigore. Lo precisa il comune di Civitavecchia in merito alle proteste e alla richiesta di chiarimenti da parte della locale Conf Commercio relativamente all'applicazione delle imposte sulla pubblicità esposta dagli esercizi commerciali. In una nota, Palazzo del Pincio sottolinea che sta perseguendo nell'opera di regolarizzazione del sistema delle entrate dell'ente a partire dalla lotta all'evasione e dalla regolarizzazione di quanto previsto nei regolamenti vigenti, in particolare sui tributi minori, ovvero imposta sulla pubblicità. TOSAP e Affissioni, e grazie anche al supporto di una società esterna selezionata, il comune, attraverso un censimento sul territorio, ha rilevato diverse anomalie rispetto alle modalità di gestione precedenti di detti tributi. Nella nota di Palazzo del Pincio si porta ad esempio l'imposta sulla pubblicità, dove per diversi esercizi commerciali sono state rilevate superfici di formi fra quanto è dichiarato e quanto è imponibile. Ma la tesi del comune viene rigettata da Sportello Consumatori, che parla di casi singolari che il sindaco dovrebbe spiegare. L'associazione parla di fuoco impositiva, dimostrata dalla Giunta che sarebbe arrivata a richiedere la tassazione anche per i cartelli esposti dalle agenzie immobiliari, con le indicazioni delle case in vendita o in affitto, oppure ad alcuni bar che esponevano cartelli con le varie tipologie di caffè disponibili. Perché, chiede Sportello Consumatori, questi esercenti espongono questi cartelli? Perché, risponde ironicamente la stessa associazione, le agenzie immobiliari non possono esporre in vetrina direttamente gli immobili o i bar esporre direttamente in vetrina il caffè allo zenzero, confidando sull'ottimo olfatto dei passanti per cogliere il particolare odore. Sportello Consumatori rileva che sarebbe come se si volesse tassare un negozio di abbigliamento che espone capi di vestiario e sottolinea che alla fine questi costi aggiuntivi saranno scaricati sui clienti. Speriamo, conclude l'associazione, che questa tassa venga applicata in maniera giusta e ragionata e non chiedendo un fiorino a prescindere come il gabaliere del film, non ci resta che piangere. E sulla vicenda delle imposte sulla pubblicità esposta dai commercianti si registra anche un intervento della vice coordinatrice di Forza Italia, Manuela Mari, che parla di accattonaggio fiscale ai danni degli esercenti. L'esponente forzista ricorda come nel rapporto con i commercianti locali l'esperienza dell'aggiunta 5 Stelle sia stata caratterizzata dalla tragedia dei Deors e dalla mancanza di un piano strategico di settore, fino ad arrivare al fenomeno delle bancarelle, ovunque all'attuale decisione di tassare cartelloni affissi dentro gli esercizi. E sempre sul caso del censimento per la cosiddetta pubblicità dei negozi sulle conseguenti imposte ricevute da molti esercizi commerciali, torna il presidente di Confcommercio, Graziano Luciani. Il massimo esponente dei commercianti locali ribadisce che nell'occasione sia registrata la totale assenza di comunicazione e condivisione del metodo. Se questa amministrazione aggiunge intende adottare una linea ferma nella gestione della città e dei servizi li garantisca, perché da parte dei contribuenti, compresi i criticatissimi commercianti che sembrano facciano altro che agilare le norme anziché rispettarle tutte dalla prima all'ultima, non c'è più disponibilità ad aspettare per vedere garantiti i servizi dovuti, pagati e non erogati. Luciani si riferisce in particolare all'assenza di illuminazione alle strade in condizioni disastrose, all'abusivismo commerciale, alla sporcizia, all'assenza di decoro urbano. Anche la CIS interviene nel dibattito che si è riaperto su CSP e lo fa con un richiamo all'azione. Basta parole, è arrivato il momento dei fatti, dichiarano i responsabili territoriali del sindacato Paolo Sagarrica Visconti e Diego Bottacchiari, secondo i quali bisogna discutere del futuro di CSP, che al momento non appare ancora chiaro e definito. Per la CISL sono troppi bassi gli attuali valori dei contratti di servizio, le fideiussioni richesse alla società sono un peso inutile ed oneroso, mentre il Comune dovrebbe chiarire quali sono le prospettive di crescita della controllata. Secondo Sagarrica Visconti e Bottacchiari è importante attivare politiche mirate sui servizi, non solo al contenimento dei costi, ma in grado di favorire anche la crescita, l'innovazione e lo sviluppo. Infine del sindacato arriva anche una secca bocciatura all'ipotesi dell'istituzione di un consiglio di amministrazione, giudicato un costo aggiuntivo inutile e inoltre rispettoso nei confronti dei sacrifici fatti dai lavoratori. Arrivano anche a campo di mare i dischetti dell'impianto di depurazione in campagna che si sono riversati nel fiume Sele, trasportate dalla corrente lungo le spiagge del litorale laziale. A farne la scoperta una cittadina residente a Cerenova che ha immediatamente allertato i carabinieri in servizio. Sono arrivati anche sulle spiagge di campo di mare i dischetti provenienti dal depuratore sul fiume Sele in campagna. A fare la mare a scoperta è stata una cittadina residente a Cerenova mentre passeggiava sulla spiaggia nei pressi dell'Ocean Surf. Una volta individuato il pericolo, la donna ha raccolto i dischetti all'interno di un sacchetto di plastiche e li ha immediatamente portati alla stazione dei carabinieri dove è stato redatto un verbale del ritrovamento. Sono circa una decina i dischetti rinvenuti nel tratto di spiaggia che va dall'Ocean Surf all'Associazione Nautica ma non è detto che possano essercene altri sparsi quella lungo tutta la costa. Una preoccupazione sensata visto che le spiagge sono spesso frequentate dai cittadini e da bambini che anche solo per errore o per gioco possono venire a contatto non solo con i dischetti ma anche con quanto è stato trasportato dalla corrente durante la stagione invernale o addirittura abbandonato dagli incivili. Sul tratto di spiaggia in questione a destare preoccupazione non sono infatti solo i dischetti per i quali il mistero della loro provenienza è stato da poco scoperto. Sono infatti state rinvenute anche alcune siringhe e altri rifiuti vari. L'appello dei cittadini ora è rivolto soprattutto all'amministrazione comunale. La stagione estiva è quasi alle porte e le spiagge a breve saranno prese d'assalto da turisti, villeggianti e anche residenti. Sarebbe dunque il caso di operare a più presto una bonifica della zona per restituire ai cittadini spiagge pulite e sicure dove trascorrere le proprie giornate o solo qualche ora di assoluto relax. Non è nemmeno escluso che della vicenda si parlerà a uno dei prossimi consigli comunali. Grande partecipazione alla biblioteca comunale Peppino Impastato di Ladispoli per l'incontro organizzato dall'amministrazione comunale in occasione della giornata mondiale per la sindrome di Down. Le interviste. Assessore, qui alla biblioteca comunale di Ladispoli per ricordare un po' la giornata mondiale della sindrome di Down e la giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo. Sì, buongiorno a tutti. Abbiamo organizzato questa giornata appunto per parlare un po' di queste due patologie e per parlare della legge 112 e di uno dei progetti dell'amministrazione grande che è l'organizzazione appunto del dopo di noi e attraverso la mia delegata Sendrella Diab che tra poco vi parlerà e la dottoressa Improta che ci presenterà anche il suo libro, la sua storia di mamma di un ragazzo disabile. Questa diciamo che è una delle prime giornate che vogliamo appunto dedicare per far conoscere e per migliorare la vita di questi ragazzi. Quindi avremo anche dei progetti regionali per riconoscere appunto le loro esigenze e per rendere loro un pochino la vita migliore. Ecco, da una parte migliorare la vita di questi ragazzi, da un'altra parte si parla anche di inclusione, non farli sentire diversi. Certamente. Buongiorno a tutti. Sono anche io una mamma di un ragazzo disabile, e questa amministrazione penso che è la prima volta alla Dispoli, dalla storia della Dispoli che cerca una delegata, una madre. E quindi una madre che sa veramente di che cosa hanno bisogno e che cosa manca sul territorio. Stiamo lavorando con l'assessore, col sindaco che ringraziamo, che ci ha sempre dato la fiducia di fare dei progetti nuovi, conoscendo altra gente, facendo un'altra apertura, di fare veramente una inclusione sociale vera e di cercare di fare. È un progetto di vita di ogni ragazzo. Ecco, protagonista, diciamo, ospite d'onore di questa giornata è proprio lei con il suo libro. Si può dire un libro dove c'è tanto della sua vita, della sua storia? Per me è un grandissimo onore essere stata invitata qui e soprattutto avere al mio fianco un'amica che è la delegata all'Handicap Cinderella Diab. La disabilità non ha colore e noi possiamo colorarla cercando di dare degli spunti di riflessione e cercare di costruire insieme in rete dei progetti. Il libro è uno strumento, uno strumento terapeutico, il diario come strumento terapeutico per esorcizzare il dolore. Quindi diciamo uno spunto che ho voluto dare ad altri genitori perché credo sia importante mettere un punto nella nostra vita, fermarci e anche considerare che la nostra esperienza ci dà la possibilità di poterci raccontare e poter costruire e aiutare giovani donne e uomini, papà e mamme, che affronteranno per la prima volta nella loro vita questa avventura. Ricorre oggi l'anniversario dell'Ecidio delle Fosse Ardiatine avvenuto il 24 marzo del 1944 dove furono uccise 335 persone dalle truppe di occupazione naziste. Tra loro anche i civita vecchiesi Aldo Francesco Chiricozzi e Antonio Margioni ai quali si aggiunge anche Renato Posata, una delle vittime dell'Ecidio avvenute invece a Borgo di Palidoro. Posade e Chiricozzi sono stati ricordati in una cerimonia che si è svolta presso l'oratorio dei Salisiani mercoledì scorso alla quale ha partecipato anche il vice sindaco Daniela Lucernoni. Nell'incontro rivolto soprattutto ai ragazzi è stato ricordato come la guerra non considera mai il valore della vita. L'Arci Comitato di Civita Vecchia in paternadiato con l'associazione Io Noi di Fiumicino organizza due corsi di lingua italiana livello A1 e A2 rivolti ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti su questo territorio. I corsi si iterranno a partire da lunedì con inizio alle 15 nella sede Arci di Piazza Piccinato 10 per una durata complessiva di un mese circa di lezioni per arrivare all'ottenimento dell'attestato di lingua livello A1 e della certificazione previo superamento dell'esame del livello A2. Il corso è totalmente gratuito, si terrà in due fasi, in due diverse fasce orari, diurna e serale in base alle esigenze degli iscritti. Per ulteriori informazioni scrivere a arci.civitavecchia.gmail.com oppure telefonare la mattina al numero 0766 502362. E siamo arrivati all'appuntamento settimanale con il sonetto di Pasquino. Dopo aver dedicato due settimane ad una sua personale analisi del risultato elettorale del 4 marzo, l'anonima poeta dialettale torna ad occuparsi a un tema a lui molto caro e che riguarda la sua amata città. Temi che comunque riguardano sempre la politica, visto che Pasquino questo sabato fornisce una sua personale chiave di lettura sulla qualità del consiglio comunale di Civitavecchia. Il titolo del sonetto è Arpeggio non c'è mai fine. Sentiamo. Ercinema entra in crisi veramente quando c'è stato il consiglio comunale. Qualcuno con un linguaggio assai speciale diventa proprio il vero concorrente. La gente ride proprio tale e quale come vedendo un firme divertente. Ci può passare qualcuno allegramente in fondo che poi di che c'è di male. Si quando che sono nati dentro al seggio hanno votato qualche purcinella, non si potrà si lacchia un sangrileggio. Ervoto dato poi, non si cancella. Poi solo di non c'è mai fine Arpeggio. Sta città nostra è proprio poverella. E passiamo ad una segnalazione che riguarda le condizioni in cui si trova il cimitero di via Tarquini. Alcuni utenti si sono rivolti alla nostra redazione per segnalare che l'acqua manca ormai da settimane all'interno della struttura creando notevoli disagi. Una situazione che si protrae senza che nonostante le proteste e le sollecitazioni sia stato posto rimedio. Viene anche segnalata l'estrema pericolosità di attraversamento pedonale soprattutto per le persone anziane. Considerata l'alta velocità con cui i veicoli percorrono quel tratto di Aurelia è sollecitata l'installazione di dossi di rallentamento. Ed era questa l'ultima notizia. Termina qui il nostro telegiornale ma restate con noi perché a breve ci saranno le notizie di Sportime 24. Grazie per l'ascolto. Auguro a tutti un buon fine settimana. Buonasera da Sportime 24 che apriamo con la palla a nuoto. Sconfitta di misura per l'NLSNC nel campionato di Serie A2. Al Foro Italico i Rosso Celesti sono stati battuti per 8-7 dal Visnova di Alessandro Calcaterra. Prestazione non convincente da parte dei Rosso Celesti sotto nel punteggio per quasi tutta la partita. Sofferenti in attacco per la poca lucidità al tiro delle bocche da fuoco. Nella finale la squadra di Marco Pagliarini ha avuto la palla per pareggiare la gara proprio all'ultimo secondo. Ma la conclusione ravvicinata di Romiti è stata deviata dal portiere romano Serrentino. In classifica l'NLSNC ha sempre ampio vantaggio sul quinto posto e l'è primo che non porta ai play-off. Parliamo adesso di calcio, occasione da non fallire per la CPC. I rossi ospitano domani alle ore 11 la Pescatori Ostia con l'obiettivo di tornare alla vittoria per consolidare il terzo posto. Assenti Desini e Paolini fermati dal giudice sportivo, oltre ai lungodeggenti, Poggi e Loasò. Ascoltiamo l'intervista. Andrea Lociani, si può parlare di momento decisivo per la stagione della CPC perché domenica affrontate in casa la Pescatori Ostia e poi l'Ottavia in trasferta, quindi la Capolista. Si può parlare di momento decisivo e soprattutto di CPC che deve cercare di fare il massimo soprattutto in queste due partite? Sicuramente sì, anche perché al di là della CPC è proprio questo marzo, il mese in cui dalla Serie A alla terza categoria si decidono un po' i campionati. Per la CPC credo che è il momento decisivo, lo stiamo dicendo già da un mesetto a questa parte. Questa di domenica è una gara sicuramente da sfruttare il fattore campo, domenica scorsa comunque abbiamo dato delle risposte in primis a noi stessi dopo l'orribile prestazione della gara precedente. E quindi insomma all'Ottavia ci penseremo dopo Pasqua, è fondamentale pensare alla gara di domenica come se fosse la finale decisiva. Sei fiducioso per la gara di domenica ma soprattutto per questa stagione della CPC, obiettivo terzo posto oppure si può appuntare anche a qualcosa in più secondo te? Purtroppo nell'ultimo periodo abbiamo perso terreno, quindi quello che era l'obiettivo iniziale adesso è mantenere il terzo posto, senza ombra di dubbio perché le squadre dietro sono arrivate ridosso. Dopodiché una volta consolidato il terzo posto proveremo a raggiungere il secondo, però credo che la dimensione che adesso ci dobbiamo dare, un equilibrio mentale sia proprio quello, ragionare domenica per domenica e mantenere adesso quello che abbiamo. Voi avete fatto una buona stagione però nelle ultime nove partite avete ottenuto solo nove punti, secondo te è stato più un calo fisico, un calo mentale o che cosa? No, fisico direi di no perché ci alleniamo benissimo, l'ho sempre detto, la cosa che veramente è stata strana è che l'intensità che riusciamo a mettere in allenamento è stata messa a corrente alternata la domenica, purtroppo non sono arrivati i risultati, abbiamo alternato buone prestazioni a prestazioni indecenti, questo è senza ombra di dubbio e ha fatto sì che da dietro ci accorciassero e davanti allungassero, quindi queste sette partite, quante sono rimaste, dipenderà solo da noi perché come giocatori e come società abbiamo le potenzialità non da terzo posto ma per stare davanti a tutti. E nella giornata di domani ci sarà anche un derby comprensoriale nel campionato di promozione, alle 11 alla Stolfi di Santa Severa scenderanno in campo Santa Marinella ed Atletico Ladispoli, gara importante soprattutto per i biancorossi che con una vittoria potrebbero staccare la zona play-out. Ha 5 punti di vantaggio la compagine rosso-blu che vuole evitare di essere risucchiata nella parte bassa della classifica. Trasferta dura per il Cervetri, di scena sempre domani alle ore 11 nella tana del Fiumicino, i verdi-azzurri vogliono un esploat per mettere fine al momento negativo di risultati. Chiudiamo parlando di rugby trasferta a Firenze per il CRC nel campionato di Serie B. Domani alle 15.30 i biancorossi andranno a fare visita ai Medici, seconda forza del Girone 2. La formazione di Esposito e Mameli vuole riscattare la sconfitta dell'andata arrivata all'ultimo secondo per un calcio di punizione trasformato dai Fiorentini. Sarà assente Gentili per motivi di lavoro ma per il resto tutti a disposizione dello staff tecnico. Bene, era questa l'ultima notizia di Sportime 24, siamo i saluti. Vi ricordo però che adesso ci saranno le informazioni del meteo. Grazie per l'attenzione e un buon proseguimento di serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.